Ciao da Apsim! La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli con Allegri marginalizzato, come vi dicevo in un precedente video, ma con Allegri ancora sulla panchina formalmente. Lo si aspetta tra l'altro lunedì, che non si azzardi a presentarsi martedì, come ha preannunciato. Vengo l'undici perché tanti di dieci devono fare solo riattivazione muscolare. Allegri è già in ritardo, si sarebbe dovuto far trovare quando è arrivato Giuntoli per salutarlo, per accoglierlo. Perché sennò come si fa a dire che era la Juve di Allegri? La Juve di Allegri è quindi la Juve del capo Allegri e quando arriva un nuovo importantissimo dipendente, il capo non c'è? Se è vero che lui è il capo. Allora o non c'era per ripicca, per risentimento, perché è contrariato, perché si è visto marginalizzato, l'ha visto come un affronto, come già dicevo, e quindi ha dato questo segnale, oppure non c'era perché ha accolto il fatto di essere stato emarginato e quindi dice non mi compete. Oppure c'è anche la terza ipotesi, pensava che gli competesse, pensava che fosse suo dovere esserci, però semplicemente è sempre Massimiliano Allegri. Quindi se riesci a fare due o tre giorni in più, ma anche fosse solo uno di vacanza, se li prende ben volentieri. Con Allegri che quindi dicevo è ancora formalmente in panchina perché dobbiamo parlare del contratto, dobbiamo parlare del contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus. Proviamo a fare dei ragionamenti sul perché sta ancora lì e partiamo dal presupposto che ormai credo un dato di fatto da accettare da tutti, che Allegri non è stato confermato per impossibilità economica all'esonero. Credo che ormai sia conclamata questa cosa. La Juventus i soldi per cacciare Allegri li avrebbe comunque avuti, è stato confermato per altre motivazioni. E questo che cosa ci porta? Ci porta a due conseguenze, una positiva e l'altra negativa. La conseguenza negativa è che si crede in Allegri e che c'è stato e c'è forse ancora qualcuno della dirigenza della Juventus, che sia Elkan che non fa parte della dirigenza ma è il proprietario, che sia Ferrero, che sia Scanavino, che siano altri, che credono che Allegri sia la soluzione ai mali di Allegri, che Allegri sia l'uomo giusto per tornare a vincere dopo che Allegri ha fatto smettere la Juve di vincere, che Allegri sia l'uomo giusto per riportare la Juventus in alto dopo che Allegri è stato l'uomo che l'ha portata in basso, che Allegri sia l'uomo giusto per riportare la Juventus a giocare bene a calcio dopo che Allegri è l'uomo che l'ha portata a giocare male a calcio. E questo è tutto conclamato e questa diciamo è la conseguenza negativa, poi c'è la conseguenza positiva però. La conseguenza positiva è che non essendoci un problema economico a fine stagione, tra una stagione e l'altra, non ci sarà un problema economico rispetto all'esonero neanche nel corso della stagione. E quindi anche se Allegri sta ancora lì possiamo tranquillamente pensare e sperare che possa essere cacciato anche nel mezzo della stagione 23-24 come è già successo a Giuntoli al Napoli con altri allenatori, come è ragionevole che sia visto che Giuntoli ha un ruolo enorme, ha responsabilità molto grandi, ha un direttore sportivo 100% full con tutte le sue competenze incondizionate, riporta direttamente solo a Scanavino e quindi, ripeto, dovrà inserire, dovrà applicare anche una nuova metodologia di lavoro che è incompatibile con Allegri nei presupposti, nei principi, nei valori, nella tecnica, nell'esecuzione, nelle finalità, una incompatibilità pressoché totale. Per cui c'è possibilità che Giuntoli non decida, se non può deciderlo lui, ma che determini la situazione per cui qualcun altro, per esempio Scanavino, decida o debba decidere che Allegri deve essere out, che Allegri out, anche nel corso della stagione. In questo senso, io ripeto, ho già detto, per me questa non è più la Juventus, è l'Allegrentus, anche se adesso sembra essere la Juventus di Giuntoli e questo ti dà un pochino di entusiasmo, questo ti fa un pochino sperare, questo ti dice, beh, forse le cose possono ancora cambiare, però io prenderò le distanze, non so ancora esattamente quando sto decidendo, cambierà anche lo sfondo alle mie spalle, perché non ha più senso dal mio punto di vista avere tutte queste cose della Juve, ne lascerò molto poche, quindi l'inquadratura rimarrà uguale, ma toglierò un sacco di roba da dietro, le maglie soprattutto, e quindi vedrete uno sfondo più generalista sul calcio, ma comunque con le sue specificità e con la sua identità, con la mia identità di certi valori, di una certa storia, di certi anche riferimenti culturali, se vogliamo, poi però resterò sveglio, resterò attivo, perché se da un momento all'altro possono cacciare Allegri, si ritorna, appena cacciano Allegri si ritorna, perché appena cacciano Allegri ritorna pian piano, ma comincia subito a ritornare la Juventus, smettendo subito di essere prevalentemente l'Allegrentus, poi serve tanto tempo, tanto tempo per ricostituire un tessuto, un tessuto vivo nella tifoseria, a livello culturale di questa Juventus, per andare a ripristinare quelli che erano i valori, quelli che erano i riferimenti, quelle che erano le volontà, le intenzioni, le finalità, i metodi, quello che era tutta la sostanza della Juventus e della Juventinità, però si comincia subito, serve tempo, ma si comincia subito, con un certo lavoro, con una certa attività ricostituente, di ricostruzione, e quindi ripartiamo, ripartiamo seguendo le partite, parlando di calcio nella Juventus, perché finché c'è Allegri non si può parlare di calcio, ma con Giuntoli si può parlare di calcio un pochino di più, un pochino meglio, ma torniamo al contratto però, perché dobbiamo parlare del contratto, dunque Allegri torna alla Juventus nel nefasto maggio 2021, mai scelta fu più pessima di quella, mai scelta fu più distruttiva nei presupposti e nell'esecuzione, cioè non è stata una sorpresa lo schifo e il fallimento a che abbiamo assistito, era tutto già scritto, era tutto già evidente, era tutto già evidente, è come un seme che ha il codice della sua pianta, è come anche a livello tecnologico, a livello informatico, la stessa cosa, tu hai un codice che ti va poi sostanzialmente a sviluppare quello che è un software, adesso senza entrare nello specifico, ma il concetto è chiaro, era tutto già evidente, stava tutto già lì, c'erano tutti gli elementi, si dovevano soltanto sviluppare, cioè doveva solo passare il tempo, ma era tutto chiaro, è vero che quando ho tornato a Allegri io dissi la Juventus vincerà lo scudetto, ma non lo dissi convintamente, lo dissi per fare una concessione ipotetica, mettendo le mani avanti, ma nel senso di dire ammettiamo anche che si vinca lo scudetto, a chi in quel momento si stava crogiolando nell'entusiasmo e io mettevo in guardia rispetto ai disastri e dissi vincerà lo scudetto perché tanto la Serie A si è indebolita, ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho avuto fin troppa fiducia in Allegri e che lui ha fallito fin troppo rispetto anche alle peggiori aspettative, perché vincere uno scudetto in una Serie A mediocre non vale tanto, fare quarti in una Serie A mediocre quanto vale? Fare terzi che con un gol in meno avresti fatto quinto al di là della penalizzazione quanto vale? In una Serie A comunque complessivamente sempre più al ribasso e quindi non è che adesso è colpa mia, cioè ho responsabilità perché dissi che Allegri avrebbe vinto lo scudetto e poi non l'ha vinto e quindi non ho indovinato, come se poi qui si dovesse stare a indovinare, ma lo so purtroppo devo ancora continuare ad interfacciarmi con gente che contamina, che intossica, che aggredisce, che è veramente squallido tutto quello a cui assistiamo, è veramente squallido, infatti sto cercando, sto pensando di prendere delle misure drastiche che non avrei mai voluto prendere, non vorrei mai prendere per il mio canale, per la mia community, ma purtroppo YouTube da questo punto di vista ci aiuta zero, piccola parentesi, YouTube ci aiuta zero, cioè se ne sbatte completamente, YouTube da questo punto di vista se ne sbatte completamente e quindi non abbiamo strumenti, c'è semplicemente la necessità del controllo umano che interviene per andare a vedere se uno ha due, tre profili e quando lo banni poi si presenta con un altro perché si capisce che è la stessa persona, oppure contemporaneamente ne utilizza più di uno e devi andare a leggere centinaia di commenti al giorno, non per leggerli e rispondere ma per controllare, per fare il carabiniere, per controllare se c'è qualcuno che merita di essere bannato e poi quindi lo devi bannare e poi ritorna e non si finisce più, praticamente ci vorrebbero due lavori, uno è quello di fare video e l'altro è quello di controllare le idiozie che si vanno ad accumulare sotto i video, parentesi sulle misure drastiche che sto pensando di prendere, YouTube ci costringe a questo, cioè non c'è altra strada, come direbbe Spalletti, non c'è altra strada, non puoi fare altro, non esiste una via di mezzo o fai, o lasci perdere oppure prendi misure drastiche, ma dicevo rispetto al contratto Allegri è tornato appunto a maggio 2021 e si disse contratto quadriennale, disse Agnelli contratto quadriennale, gli chiesero ma come contratto quadriennale? è un contratto molto lungo in quel periodo e ancora oggi, i contratti degli allenatori si fanno al massimo biennali con opzione per il terzo, vedasi Spalletti, contratto biennale con opzione per il terzo, Sarri era un contratto biennale con opzione per il terzo, non era un contratto di tre anni compiuto quello di Sarri, di Pirlo non mi ricordo, per dire quelli fatti prima, poco prima, ma era un contratto troppo lungo e Agnelli disse perché riteniamo che Max, Max, sia l'uomo giusto per il nuovo progetto della Juventus, nuovo progetto che io mi ricordo, disse lì per lì nel commento di quella conferenza stampa, che progetto è, cioè che si intende per nuovo progetto, qual è la novità del progetto? Ritorna Allegri e parli di un nuovo progetto, qual è? Forse perché abbassi l'età media? Ma Allegri non è in grado di allenare dei giovani e infatti quello si è visto, semplicemente il nuovo progetto non c'era. Ora, poi sono circolate le cifre, all'inizio si parlava di 9 milioni netti, poi è venuto fuori che fossero 7 più 2 di bonus, qualcuno ancora insiste a dire che sono 8 o 7 e mezzo, non si è mai capito, fatto sta che quel contratto non l'ha letto praticamente nessuno, non l'ha letto quasi nessuno, ci sono tante voci che circolano e una delle voci che circolate era quella del 2 più 2, non è un quadriennale, ma è un contratto di due anni che si prolunga automaticamente di altri due anni all'intervenire di determinate condizioni e lì c'era chi diceva è sufficiente che Allegri porti la Juve a qualificarsi in Champions sul campo perché si faccia il più 2, c'era chi diceva se la Juventus non va in Champions anche per altri motivi che non sono legati al campo, vedasi le penalizzazioni, Allegri è comunque out, cioè gli scade il contratto, c'era chi diceva anche se la Juve va in Champions è necessario che la Juventus vinca almeno un trofeo altrimenti con 0 trofei Allegri è out, cioè gli scade il contratto e addirittura c'è chi ha detto è un contratto quadriennale ma il più 2 è un rinnovo rispetto al quadriennale quindi diventano 6 anni per il solo fatto che la Juve va in Champions alla seconda stagione non si è capito nulla, si è detto tutto e il contrario di tutto aggiungiamo altri dettagli, si è parlato anche di penali cioè uno dei motivi per cui dicevo in realtà Allegri resta per motivi non economici ma ammettiamo che ci siano motivi economici e uno dei motivi potrebbe essere che se tieni Allegri gli devi dare quei 7 milioni netti più eventuali bonus ovviamente poi c'è il costo lordo per la Juventus più lo staff si parla di 20 milioni lordi all'anno tra Allegri e il suo staff troppo, almeno il doppio di qualunque altro allenatore normale che farebbe un ottimo lavoro senza avere il palmarès e tutta questa gente che parla bene di lui tutta questa propaganda mentre se Allegri lo cacci non gli devi dare solo non devi tirar fuori solo quei 20 milioni lordi e che sono 40 per due anni ma una penale di qualche altro milione o addirittura quegli stessi soldi ma pagati tutti subito tutti in un'unica soluzione allora è chiaro che c'è una differenza di costi e allora avevamo anche detto la Juventus deve scollinare il 30 giugno per entrare nel nuovo bilancio, nella nuova stagione e perché non può mettere i costi delle zone di Allegri sul bilancio precedente per motivi di deficit per le finanziarie quindi aspettiamo poi però il primo luglio non è successo nulla due, tre, adesso siamo arrivati all'otto luglio Allegri sta ancora lì quindi ripeto, quella aveva senso come interpretazione però non è quella che è in vigore l'interpretazione in vigore è che Allegri rimane per altri motivi ma dobbiamo parlare anche di politica perché un contratto fatto con i piedi in questo modo e non è l'unico quindi lo possiamo dire serenamente perché poi devi parlarmi del contratto ad un portiere titolare con opzioni di rinnovo automatica sulla base delle presenze a un portiere titolare sulle presenze cioè qui stiamo parlando di gente che ci si è messa d'impegno per scrivere questi contratti beceri questa carta straccia e poi sono quelli che manda tu il curriculum vai a fare tu il dirigente ma certo che vado a fare io il dirigente non ne capisco assolutamente nulla ma questi disastri non li posso mai fare perché se io da Juventino lavorassi per la Juve io starei lì 12 ore al giorno 10-12 ore al giorno a stento mi prenderei il riposo la domenica o il riposo settimanale quando me lo danno a stento chiamerei ferie perché ci sarebbero troppe cose da fare stare lì a guardare a fare tutto quello che si può fare a cercare di non sbagliare sarei stressatissimo andrei in burnout ma lo farei credendo nel dover fare le cose bene perché questo è il mio modo di lavorare e per la Juve lo farai il doppio sacrificherei un sacco di cose per fare le cose bene altro che certo che ci vado certo che ci andrei pur non avendo le competenze ma questi disastri non li farei non li potrei mai fare perché basta un minimo di logica per evitare questa roba qui e poi appunto il rinnovo automatico di un anno a Bonucci ad Alexandro a Quadrado gli altri rinnovi che non avevano proprio senso soldi soldi regalati adesso il rinnovo di un anno a Rabiò anche alle stesse cifre soldi regalati per stipendi assurdi 6 milioni e mezzo a Cesti 6 milioni ad Alexandro 6 milioni e mezzo a Bonucci Di Maria quanto voleva lo aspettiamo 40 giorni poi però Di Bala non si poteva non si poteva rinnovare insomma quindi voglio dire non sarebbe il primo caso di un contratto fatto malissimo il problema è che questo contratto fatto malissimo ad Allegri da parte di Agnelli un contratto totalmente sbilanciato tutto a favore di Allegri aveva evidentemente delle profonde ragioni politiche cioè Agnelli deve aver pensato mi stanno facendo fuori perché sapeva che era a rischio perché a marzo aprile 2021 mentre riboliva in pentola il ritorno di Allegri perché poi ad aprile si incontrano a Forte dei Marmi il sabato di Pasqua mentre si gioca Juventus Torino e Pirlo è in crisi e fanno anche sapere che si sono visti pur senza foto si parlava di Alessandro Nasi nuovo presidente della Juventus e quando vengono fuori queste voci è perché vogliono che vengano fuori perché non escono fuori queste voci incontrollate che riguardano grandi nomi della finanza altrimenti vengono smentite non c'è mai stata nessuna smentita sull'ipotesi di Alessandro Nasi presidente della Juventus mai nessuna smentita né ufficiale né ufficiosa semplicemente una voce che è circolata per qualche giorno e poi si è fermata ma è rimasta lì come monito ed Elkan era lì nelle ultime partite del campionato di Pirlo anche alla finale di Coppa Italia era lì di fianco ad Andrea per mettergli il fiato sul collo per mettergli pressione perché si doveva andare in Champions League e perché rischiava di saltare e forse sarebbe saltato Agnelli e non sarebbe tornato Allegri se Pirlo avesse fatto quinto ovviamente non è colpa di Pirlo perché non lo poteva sapere non lo poteva capire né dei giocatori non immaginavamo una situazione del genere e quindi che cosa succede? succede che Agnelli si salva e a quel punto però dice io devo trovare una garanzia per me stesso quindi faccio tornare Allegri prendo un po' in giro Elkan che ci casca o forse sa che gli può convenire molto più probabilmente perché è molto furbo e molto intelligente facendo tornare Allegri promettendogli che con Allegri tanto si rivince lo scudetto in Champions League ci andiamo sicuro perché lui ci ha sempre fatto andare in Champions League e quindi va bene a tutti a quel punto Agnelli a carta bianca purtroppo per fare un contratto che è la sua garanzia personale perché con un quadriennale non puoi mandare via Allegri perché quel contratto è impossibile a quanto pare sembra impossibile da sciogliere e quindi fin tanto che rimane Allegri rimane anche Agnelli perché non potendo cacciare Allegri non puoi cacciare Agnelli nel senso che non c'è una responsabilità conclamata dover cacciare Allegri l'ho detto tante volte anche prima delle dimissioni avrebbe comportato un enorme peso di responsabilità nei confronti di Agnelli cioè hai fatto un disastro e adesso te ne vai anche tu poi però la situazione precipita Agnelli forse lo immaginava che sarebbe successo e quindi si arriva alle dimissioni del 28 novembre 2022 a quel punto però Allegri viene confermato da Elkan non si è capito bene per quali motivi forse perché ad Elkan serviva un Allegri che portasse la Juve in naufragio perché c'è bisogno di altri si cerca di raggiungere altri obiettivi a livello di società a livello di borsa e quant'altro o forse perché si voleva evitare che si perdesse completamente la bussola che si perdesse completamente ogni riferimento della Juventus perché appunto era venuto meno il presidente dopo 13 anni e quant'altro fatto sta che addirittura viene investito di maggiori responsabilità ma questo che cosa ci dice anche che Agnelli anche nell'immaginare di poter saltare aveva messo Allegri con il quadriennale consapevole che fin tanto che fosse rimasto ed è rimasto Allegri alla Juventus nella Juventus ci sarebbe rimasto anche Agnelli stesso cioè Agnelli permane nella Juve nella persona di Allegri questo è quello che possiamo immaginare politicamente perché perché il rapporto tra i due è arcinoto è stato candidamente ammesso anche da entrambi che c'è una grande amicizia che è nata negli anni di lavoro si fa per dire alla Juventus e soprattutto è strano vedere un Agnelli che dopo tanti anni viene mandato via dalla Juventus ma sparisce completamente come 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 impatto come condizionamento questo è difficile da immaginare cioè Agnelli qualcosa nelle retrovie evidentemente lo sta facendo e noi non lo vediamo oppure lo vediamo ma lo attribuiamo a qualcun altro per esempio la propaganda pro Allegri che è andata avanti in tutti questi mesi siamo sicuri che è stata organizzata da Allegri o da chi per lui e non è stata organizzata direttamente da Agnelli perché conviene ad Agnelli una determinata situazione immagino ipotizzo non lo possiamo sapere con certezza perché ci sono cose che non sappiamo però ragionandoci secondo la logica del qui protest cioè chi se ne avvantaggia possiamo immaginare bene che convenga ad Agnelli la permanenza di Allegri perché è un suo uomo comunque è comunque un suo uomo anche se è stato confermato da Elkan anche se come ho detto possiamo paradossalmente immaginare che Agnelli avrebbe cacciato Allegri se fosse rimasto presidente alla fine di questa seconda stagione perché due anni senza scudettino non li avrebbe accettati ma anche lì è un'ipotesi non lo possiamo sapere con certezza ma qualora Agnelli avesse cacciato Allegri alla fine di questa seconda stagione con Agnelli ancora presidente l'avrebbe fatto comunque per preservare la propria posizione politica per rafforzare la propria leadership in Juventus quindi sempre per la stessa logica e purtroppo qui bisogna essere macchiavellici cioè bisogna guardare alle finalità dopodiché le alleanze seguono le finalità e non il contrario e quindi alla fine vale un po' tutto ma in questo momento quindi è più una battaglia politica che non economica o tecnica e sportiva la permanenza o meno di Allegri sulla banchina della Juventus e a livello contrattuale quindi facendo un recap anche di tante voci che sono venute fuori questo è quello che mi sento di dire questo è quello che mi sento di ipotizzare questi sono i ragionamenti che mi vengono ovvero una scelta politica un peso politico importante per dei vantaggi che sono alcuni ben precisi altri che possiamo magari immaginare o neanche immaginare ma comunque ci sono perché si tratta poi anche di rapporti familiari e aziendali Elkan Agnelli e tante altre cose ma comunque una scelta che non era veramente strategica per il lato sportivo bensì strategica per una protezione personale ed ecco allora anche che cosa si agita dietro e quante cose complesse ci sono che non riusciamo a vedere non riusciamo a capire non riusciamo a controllare né a giustificare ed è forse il motivo aggiunto per cui Allegri sta ancora lì al di là del discorso economico che potrebbe avere anche il suo impatto come ho detto ma forse no con la conseguenza però positiva che a questo punto si può fare sul serio per mandarlo via mi direte ma allora se Agnelli ha fatto tutto questo esercita ancora tutto questo potere come può giuntoli cacciare Allegri perché non sarebbe comunque mai giuntoli a cacciare Allegri ma sarebbe Elkan che consentirebbe a Scanavino di consentire a giuntoli di creare il contesto per la separazione cioè di creare quel contesto sfavorevole d'Allegri che porti poi alla separazione in qualunque maniera sempre con una decisione che viene dall'alto dall'altissimo proprio cioè dal vertice massimo della Juventus che è John Elkan come proprietario per ragioni che possono anche essere di opportunità politica e anche relative ai rapporti con Andrea Agnelli quanto è credibile questa mia ricostruzione quanto no fatemelo sapere nei commenti e grazie comunque per l'attenzione like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi sul mio secondo canale Apsim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e fino alla fine sempre Allegri Out Grazie a tutti